Speriamo di fare almeno una buona prestazione perché io sono nuovo ma l'ultima partita so che non è andata tanto bene però vediamo di riprenderci oggi almeno un risultato positivo Giochiamo come al solito tra i difensori riattaccanti Un pochino come avete visto qualche video della squadra avversaria, come la vedete? Io personalmente no, ho già giocato una sola partita quindi sono proprio quello meno indicato però comunque sembrano abbastanza strutturati fisicamente Noi in alcuni nostri soggetti lo siamo Un saluto a Tony Giordano che ci guarda sempre La nostra vecchia Sampo Eh, è la vecchia squadra che ci guarda sempre Un po' calore ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti. 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 E dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta. Oggi abbiamo sbagliato tanti gol. A chi vuoi dedicare il tuo migliore in campo? Dico alla squadra e alla Pia che oggi non è potuto venire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.